salve a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale come state prima di tutto spero sempre bene ovviamente questo periodo purtroppo è molto molto particolare scusatemi se non sono truccatissima ma ci tenevo a fare questo video perché aspettavo un pacchettino e vi faccio vedere proprio il primo e sarebbe proprio il pacchettino pinalli vedete praticamente a c'è un'altra bustina che dopo vi faccio vedere la sposto ecco qua è solamente un prodottino avrei fatto molti più danni ma mi sono dovuto contenere e ho voluto acquistare il set di pennelli di nabla non mi ricordo vi scrivo quel nome che non mi ricordo lo tenevo puntato da parecchio con questo non l'avevo ancora tolta la pellicolina vedete che bello scritto proprio così nabla molto molto bello ho dato una sgricciatina sono sincera e infatti li ho voluti togliere dalla vedete come bellina la bustina di raso con questo color cipria direi molto molto bella devo dire la verità queste erano scontate sono ancora scontate al 20 per cento quindi dateci un'occhiata che mi conosce anche quelli lì i the nude se non sbaglio e perché di questa collezione quando sento parlare bene di questo set e quello di un altro colore il viola e rosso così e così però mi interessava questo set e mi aveva incuriosito tantissimo io ho tolto già la pelle pellicole perché nei set allora vi faccio vedere nei set viso questi qui c'era sia la bustina esterna e sia la bustina singolarmente con tutto con tanto di cappuccetto alla fine proprio poco poco tempo fa poco prima li ho li ho scartati ho tolto la la bustina quindi erano tutti voi vi prendo questo qui perché ve lo faccio vedere dopo tutti in queste bustine alla fine sarebbero queste qui richiuse per bene con l'adesivo ed erano punto singolarmente separati oltre questo involucro anche tutto il la plastichina però prima di iniziare mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanellina per non perdere i prossimi video spolliciate mettete un bel like se il video vi piaciuto e se vi va venite a seguire anche su instagram mi trovate sempre come luna rossa trattino basso 88 ma trovate il link diretto giù in info box allora continuiamo questo set l'ho pagato da 49 90 l'ho pagato 39 euro e 92 centesimi dove avere anche la la ricevuta anche se non questo è l'acqua marina sarebbe sì non c'è scritto non so se c'è scritto no solamente il set dicendo no ok e mi hanno mangiato di mi hanno mangiato soprattutto di tre campioncini l'altra volta vi ricordate mi hanno regalato il bagno doccia e quattro campioncini stavolta solo questi due mi hanno regalato due campioncini di diego della palma che sono uguali e sarebbero la crema uniformante antimacchia 24 ore mi hanno regalato i due e poi un profumino di chloe quindi vediamo un pochino com'è e il set appunto di questi qui l'ho pagato appunto al 20 per cento di sconto sono già ho visto questo pennellino che mi piace moltissimo sia per il contour e poi andare appunto a dare diciamo meno diciamo a fare proprio questa questa un contouring più soft ecco più leggero mi piacciono molto già mi hanno incuriosito tantissimo questi due appunto per il viso e qui ci sono scritti solo i numeri vedete sono veramente veramente molto 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 belli veramente bellissimi belli molto molto belli eccolo qua questo secondo me va bene anche per il fondotino vede che sezione strana e schiacciate poi leggermente larga qui il particolare particolare su me questo appunto nello specifico lenne 307 e poi abbiamo questi bellissimi pennelli anche questi erano riposti singolarmente con la varia bustina e inoltre avevo un ulteriore bustina come ovviamente come questa qui solo che avevano quella pellicola con l'adesivo e mi hanno incuriosito moltissimo allora vediamoli descendo i cappuccetti questi qui sono rigidi quindi non sono male anche se li volete conservare nella pochette secondo me è una buona alternativa oltre che quando li lavate ci mette della retina questo qui quindi sarebbe sicuramente per le labbra e lo uso molto quello di essence utilizzo poi abbiamo questo qui che credo che vada bene a questo quello che l'ho visto utilizzare nello specifico è lenne 206 l'ho visto utilizzare appunto vediamo se si riesce a intravedere più o meno l'ho visto utilizzare come contornocchi per il contorno scusate se vedo vedo dall'anteprima poi questo qui non l'ho capito sono sincera questo qui non ho capito nello specifico forse per andare a sfumare perché a due setole vedete questo qua questo non l'ho capito sono sincera se qualcuno al questo pennellino e lo specifico è lenne 208 fatemi sapere questo qui credo proprio per l'illuminante e questo qui ovviamente per andare ad applicare presumo l'ombretto anche sotto secondo me va benissimo più la prenderò anche di nude perché ho visto anche di subiti bei ci sono ci sarà anastasia scontato voi sapete che io amo tantissimo per chi mi segue dall'inizio amo tantissimo anastasia c'è il 20 per cento vorrei prenderla amresi non posso purtroppo fatto già troppi danni bene questo abbiamo finito con pinalli ecco qui abbiamo terminato e iniziamo con un altro pacco che ho acquistato una cremina viso di bottega verde allora come primi prodotti vi faccio vedere sono con due tanti vecchiali benissimo vi faccio vedere gli acquistini che ho fatto da wiper e ho voluto acquistare nello specifico questo pennello che avevo visto appunto questa linea di guai con il numero 3 n c 3 questo qui che va bene anche per applicare diciamo la cipra infatti l'ho già utilizzato una volta e poi l'ho disinfettato per perché mi sono dimenticata di lavarlo l'ho disinfettato con il con il cleaner di di x che avevo acquistato su amazon e punto queste qui e con setole naturali ci dice infatti me l'ha detto sì pennello a ventaglia di grandi dimensioni ideale sia per l'applicazione puntuale sì e delicata di polveri di polveri viso che per la stesura di formule liquide non male questo mi è curiosito tanto l'ho acquistato quindi stesso nello store perché mi sono trovata ad andare a fare un giro con mia mamma e quindi dovevo acquistare da wiper con la matita per le sopracciglia infatti ho anche lo scontrino e il pennello l'ho pagato 4,90 se non erro se non mi ricordo male non si capisce nulla sinceramente la matita costa 8,90 perché ho acquistato il ho voluto prendere la la matita mi sono portata dietro la matita per sopracciglia questa è patita per sopracciglia scusatemi quella lì di 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 dior l'anno 903 sono sbaglio black mi sono portata dietro quella per cercare di alternarla fino a che arriva ottobre di poter fare poi il micro blending questo se non sbaglio era 4,90 se non voglio il rato e non vedo il rato e quindi ho pagato tutto 15,85 questo il pennello mi è piaciuto molto ho voluto acquistare già l'ho utilizzata anche la matita quindi quella è automatica per le sopracciglia nella colorazione 06 medium brown ed è appunto fatta così io sinceramente preferisco quelle temperabili perché queste qui mi finiscono un po troppo presto vedere va più sul grigio marroncino però deve essere molto molto scuro ed ecco appunto questa matita nella colorazione appunto 0 6 medium brown e l'ho pagato 8,90 poi ho acquistato in una su internet scusate io non mi ricordo l'ho acquistata veramente un po di tempo fa questa lozione spray protezione solare della roche posé che l'ho acquistata appunto nello sconto a 9,90 poi non so perché ho pagato alla fine 13 e qualcosì il 13,85 vabbè mi è piaciuta già l'ho provata alcune volte anche domenico l'ho provata mi è utilizzata come ho fatto l'ho utilizzata uffa come dire le cose come si deve ok allora l'ho utilizzata applicata prima del setting spray perché l'ho visto fare appunto da simona nappi che seguo spesso le sue dirette quando posso ne approfitto le seguo e ho fatto anche questo modo vedete proprio nebulisce vedete ecco qua è bellissima delicatissima sei un velluta sul viso e poi dopo va applicare il setting spray per andare appunto a settare tutto mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto questo è un formato da 7 da che bel profumo un formato da 75 ml e protezione 50 l'ho acquistata visto stesso su internet e potete vedere anche sul questo sito farma e si chiama magari ve lo scrivo ci ho acquistato già tre volte mi trovo bene questo scusatemi ma non mi ricordo proprio dove l'ho acquistato alla fine è arrivato a 13 e qualcosa sinceramente lo prendevo a prezzo pieno a questo punto del buy costa sui 15 euro comunque vabbè non ho visto sinceramente le spese quando fate l'acquisto e quindi pensavo che costava 9,90 in offerta e basta non c'erano spese di spedizione comunque vabbè poi 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 sono andata al lidl e ho voluto acquistare le due creme piedi questa qui già l'avevo utilizzata però poi stavo utilizzando utilizzando quella di etere la sto affinendo l'avevo regalata a mia nonna allora essendo questo sono tutte e due formati da 100 ml e volevo prendere perché questa è al 10 per cento di di urea crema piedi urea al 10 per cento di idratazione intensa quindi adatta adatta anche per diabetici ed è indicata appunto per piedi secchi e screpolati questa qui mi è piaciuto molto se sto bianco abbastanza velocemente quindi l'ho voluta riacquistare poi questa qui sempre da 100 ml che appunto un balsamo piedi donna sollievo e freschezza io già inizio ad avere dolori al tallone e i polpacci bene donna sollievo e freschezza con oli essenziali di menta e arancio e quindi qua dice per piedi stanchi e affaticati quindi ne voglio approfittare ne ho voluto approfittare che questo solo sbaglio costano 2 euro l'uno un 99 proprio credo non mi ricordo scusa di me non ho portato di mano tutto e questo qui l'ho voluto riacquistare questa ho voluto riacquistare questa qui l'ho voluta provare poi ho voluto prendere di nuovo un balsamo labbra della glicemia lo tengo in utilizzo qui nella cameretta e questo è proprio un balsamo un stick lab nutriente devo dire che per le mie labbra super secche mi sta piacendo tantissimo questo costa 189 meno di 2 euro e mi sta piacendo tantissimo ve lo faccio vedere e si è piacere 15 quindi anche ottimo come protezione quindi questo con glicerina e vitamin e con camomilla bio mi sta piacendo moltissimo quindi ne ho voluto riacquistare un altro poi l'ultimo prodotto ho voluto prendere tutto per tutta la carta che scusatemi se c'è qualcos'altro abbiamo regalato questo non l'avevo neanche visto perdonatemi c'è anche un omaggio tutta la carta e dai ecco ho voluto acquistare questa crema per punto per per non lo so strati di bellezza crema gel idrata e opacizia quindi per pelli miste o grassi è l'unica cosa che ho sbagliato a non controllare e che contiene all'interno come primo ingrediente l'alcol denaturato ve lo faccio anche vedere ma non si verrà una cippa è un formato sempre da 50 ml e un pao di 12 mesi io cerco di evitare quando c'è l'alcol o quando sono altri ingredienti cerco proprio di evitarli però sinceramente qua dice che contiene mela verde fonte naturale di vitamine e sali minerali kiwi in natura ricco di vitamine c e potassio zero parabeni accessori di formaldele e oli minerali quindi questo alcol denaturato cercherò di utilizzarla proprio adesso nelle giornate calde mi avevo adagiato un po di due settimane fa e vedete quando voglio parlare in modo fluido non ci ingarro proprio e quindi l'ho voluta acquistare perché per le giornate calde sotto al make up la sera più che altro giorno mi truccherò poco e niente solo col mascara un po di rossetto quando potrò e basta e questo qui punto è una bella confession vedete proprio sembra già si vede dal pecc scusatemi non l'apro perché non l'ho proprio aperta sembra proprio già un si vede che un gel ed è molto molto interessante quindi vedrò di utilizzarlo solamente proprio in poche volte non non tutti tutti perché oppure che poi questo alcol denaturato mi vada a seccare troppo la pelle e poi ultimi due prodottini mi hanno dato in omaggio questi prodotti questo non l'avevo provvisto stava sotto alla carta pensate voi questo qui è un si chiama distillati di emozioni con le due toilette e questo qui invece allora dice lozione dopo sole interessante interessante sol e l'icrisia vediamo tanto lo utilizzerò quindi mamma che bel profumo qualcosa no bel profumo texture leggera in fresca e idrata niente niente male sembra neanche che abbia sì il silicone ma ce l'ho verso il terzo posto vabbè non possiamo aspettarci nulla di particolare da bottega verde tutti dicono è bio 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 e poi di bio ce n'ho quasi niente bene questi sono tutti i miei prodottini spero che vi siano piaciuti noi ci vediamo al prossimo video grazie per averlo visto e vi mando come al solito un grande bacio ciao